A Teramo per il rinnovo del Consiglio provinciale hanno votato nella giornata di ieri in 497 su 580 aventi diritto. Nel 2017 avevano votato in 506 con una percentuale di affluenza dell'88%, un risultato di assoluta parità tra il centrosinistra e le due liste del centrodestra che hanno portato ad eleggere sei candidati per corrente politica, un'elezione che ha visto per il centrosinistra ottenere un buon risultato in città, ma una debacle sulla costa dove ha stravinto il centrodestra. I nomi dei consiglieri entrati in consiglio per l'unica lista di centrosinistra denominata la Casa dei Comuni sono Graziano Ciapanna, Mauro Scarpantonio, Vincenzo Di Marco, Martina Maranella, Graziella Cordone e Marco Angelini, mentre per il centrodestra composta a due liste i consiglieri sono divisi tra la lista La Forza del Territorio che eletto quattro consiglieri che sono Gennarino Di Lorenzo, Alessandro Ricchiuti, Luca Frangioni e Beta Costantini e per la lista Il Territorio e la Genta sono stati eletti due consiglieri, Lanfranco Cardinale e Domenico Pavone. Dunque finisce 6 a 6 l'elezione dei consiglieri della provincia di Teramo con due donne elette nel centrosinistra e una per il centrodestra.